Fuori strada, attrezzati per interventi di protezione civile, tre posti medici avanzati di primo livello, due autocarri logistici. Sono i numeri del Curcuneo Safety, l'esercitazione della maxi-emergenza che si è svolta a Carrù nello scorso fine settimana in altri comuni limitrofi. Un'esercitazione di maxi-emergenza durata 18 ore. Curcuneo Safety 2014 iniziata alle 17.30 di venerdì con l'allertamento e attivazione del sistema 118 e dell'unità di crisi a causa di un terremoto simulato ed è proseguita in notturna con un susseguirsi di allarmi e interventi di soccorso dovuti all'esondazione del fiume Tanaro. Evacuazione dell'ospedale di Dogliani e della casa di riposo di Carrù, crolli di ponti e abitazioni con conseguente trasporto in ambulanza dei feriti, prima nei posti medici avanzati allestiti, in zona sicura, nelle immediate vicinanze degli eventi, poi dopo una prima valutazione delle condizioni mediche, nuovo trasferimento delle persone soccorse all'ospedale da campo del 118. Nelle piazze del mercato di Carrù sono stati allestiti l'unità di crisi, il posto medico avanzato di secondo livello della regione Piemonte, la centrale operativa mobile dell'emergenza sanitaria 118 e il campo d'accoglienza. La maxi-emergenza è infine terminata sabato mattina con l'evacuazione di circa 150 studenti della scuola media di Carrù. Abbiamo avuto oltre 600 volontari impegnati in questa esercitazione. Abbiamo inoltre fatto la seconda giornata del campionato italiano del soccorso di Ampas Piemonte che ha visto 15 squadre impegnate provenienti da 5 regioni italiane. Queste giornate di prova, di simulazione e di protezione civile per noi sono molto importanti. Servono a testare quello che sono la preparazione dei nostri volontari e l'interazione con le altre forze. Abbiamo avuto la presenza della centrale operativa 118 del Cuneese e della struttura di maxi-emergenza del 118 piemontese. Inoltre ci sono le integrazioni con i vigi del fuoco, i carabinieri, i comuni interessati dagli eventi. Sicuramente queste giornate servono sempre di più per l'informazione dei cittadini, non solo per la formazione dei nostri volontari. Siamo confrontati in tecniche di soccorso e soprattutto in tecniche di collaborazione e di comunicazione anche con altre organizzazioni, non specificatamente Ampas, con un successo, oserei dire, veramente grande. Ovviamente non sono mancati i problemi perché le esercitazioni a questo servono, proprio per individuare laddove ci sono delle debolezze e laddove bisogna intervenire per migliorarsi. Abbiamo ribadito ancora una volta la sinergia e l'integrazione tra la struttura del 118 regionale e l'associazione di volontariato che in questo caso è rappresentata dall'Ampas. È una sinergia che si sviluppa quotidianamente sulla strada e che soprattutto in momenti molto difficili, quali quelli delle grandi emergenze, assume un ruolo importantissimo perché in queste situazioni c'è bisogno di molto personale e i volontari con la loro capacità di azione rendono fondamentale il risultato finale della risposta di questo intervento sanitario con grosse difficoltà legate all'evento. Nuove tecnologie sono state introdotte nell'ambito del servizio 118. Una di queste è Google Glass, non ancora in commercio. Google Glass sono un nuovo device che permette di acquisire informazioni dalla rete internet direttamente nell'occhio senza usare le mani e con il campo visivo libero. Insieme ad Ampas Piemonte abbiamo sviluppato un'applicazione demo, quindi stiamo sviluppando un'applicazione per aiutare i volontari che operano sulle autoambulanze e dare a loro un modo, una nuova tecnologia per operare con più velocità e più sicurezza. Si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Grazie a tutti per averci seguito. Fin qui a tutti una buona serata. Grazie a tutti.